Si attendono nelle prossime ore ulteriori novità riguardo alla riprogrammazione dei calendari vaccinali contro il coronavirus di prime e seconde dosi in provincia di Taranto. I vertici della Asla Ionica hanno raggiunto Bari nella mattinata di martedì 15 per interloquire con i massimi esponenti della sanità regionale all'ordine del giorno le variazioni riguardanti le somministrazioni del vaccino Vaxevria AstraZeneca e le misure per tenere sotto controllo i casi di variante indiana che potrebbero comunque presentarsi sul territorio regionale. Per ora, a seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute, del CTS e della Regione Puglia, che hanno indicato l'utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente nelle persone di età superiore o uguali a 60 anni, è stata decisa la riprogrammazione degli appuntamenti fissati per le prime dose di vaccino Pfizer o Moderna negli hub vaccinali. È sorto infatti un imprevisto problema di disponibilità vaccinale che impone uno spostamento di parte delle prenotazioni, in particolar modo per mercoledì 16 giugno. Il personale dell'ASL provvederà a contattare gli utenti interessati dalla riprogrammazione al fine di concordare e garantire un nuovo appuntamento entro la fine di giugno. Restano invece inalterati gli appuntamenti previsti per le seconde dosi di chiusura dei cicli vaccinali Pfizer o Moderna.